Dopo la felicità di ieri sera e la stanchezza, come commentiamo questo sorteggio? E' di nuovo un'altra sfida importantissima contro una squadra di altissimo livello, abituato a giocare queste partite internazionali, però noi vogliamo cercare di migliorare ancora, è un percorso di crescita al nostro, vediamo dove riusciamo ad arrivare. Anche l'affetto dimostrato dai tifosi che sono venuti ad accogliervi a Caselle questa notte, vi dà anzi ancora più voglia di andare avanti in questo percorso europeo? Noi cerchiamo di fare del nostro meglio come abbiamo fatto finora, sono tante partite che stiamo facendo bene, è una società che in questi ultimi anni ha fatto una crescita esponenziale alla grande e noi ci speriamo di migliorare continuamente. Lo Zenit forse è una delle squadre più difficili che c'erano da pescare in questi ottavi, anche se proprio da San Pietroburgo hanno detto che giocare in casa la prima partita del Torino forse non li agevolerà. Ma intanto per noi è stato un bene non incontrare squadre italiane, perché i derby sono sempre partite particolari. Per il San Pietroburgo, viceversa lo Zenit, sappiamo benissimo che è una squadra fortissima, che dovremo cercare di far sì che il nostro gioco continui ad essere quello che è stato fino adesso e cercheremo di imporlo. Cos'è cambiato nel Torino però nell'ultimo mese o comunque nelle ultime partite? Perché fino a Natale si parlava di un Toro quasi vicino alla zona retrocessione, ora invece l'Europa non è più un sogno. Beh intanto tanti impegni ravvicinati, soprattutto siamo partiti molto presto quest'estate, quindi questo ha inciso abbastanza. Infatti quando poi dopo dal mese di gennaio abbiamo avuto la possibilità di allenarci bene la squadra ha iniziato veramente a volare, speriamo di volare ancora più avanti. Quindi secondo me era un modo per aspettare un attimo anche i nuovi arrivati e adesso stiamo ottenendo quello che forse meritiamo. Merito di Ventura, merito dei ragazzi della squadra, crede anche lei che un giorno Ventura possa arrivare magari ad allenare la nazionale o una squadra di prima fascia come si è detto ultimamente? Beh questo non glielo so dire, adesso Ventura è concentratissimo a fare il bene del Torino e credo che abbia voglia di farlo ancora per un po' di tempo sicuramente, anche perché come ti dicevo è un percorso che stiamo portando avanti da quattro anni con lui e sta crescendo continuamente, speriamo che cresca sempre.